Alziamo le nostre voci, grazie Signore, grazie Signore, l'ho dato sia il Signore, l'ho dato sia il Signore, grazie Gesù, l'ho dato sia il Signore. Ho ascoltato da parte di Dio che il nostro Dio vi sta dando un grandissimo regalo con il vostro pastore e sua moglie e tutti i ministri di questa Chiesa. L'ho dato sia il Signore, ci sarà un grande risveglio, io sto vedendo in visione tantissima moltitudine di gente arrivare e vogliamo essere parte di ciò che Dio sta facendo, grazie Gesù. Andiamo al libro di Giobbe, capitolo 1, versetto 6. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana. E l'Eterno dice a Satana, da dove vieni? E Jeovà le dice a Satana, da dove vienes? E Satana rispose al Eterno e dice, dal andare avanti e dietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. Rispondendo Satana a Satana, Jeovà ha detto, di rodeare la terra e di andare per ella. Grazie Gesù. Allora, potete sedervi. Vorrei parlare un po' di ciò che significa essere dietro la tenda. Dietro la scena. Noi viviamo in questa vita ma c'è un movimento e tantissime cose spirituali che stanno lavorando dietro la scena. Se tu veramente credi che Dio è in completo controllo allora il diavolo non potrà fare assolutamente nulla per fermarti. Perché Dio è l'unico che ha l'ultima parola. Immaginate cosa ha potuto sentire Job non capendo cosa stava succedendo dietro la scena, dietro il palco. L'unica cosa che Job aveva dopo aver perso assolutamente tutto, incluso i suoi figli è stata la sua integrità e il suo amore per Dio. La moglie gli ha detto ma ancora tu stai mantenendo la tua integrità? E gli disse ma maledisci Dio, muori. Satana pensa che l'unica ragione per cui serviamo Dio è per ricevere benedizioni. Job serviva Dio allora per niente? ma anche senza niente lui continuava a servire Dio. Noi dobbiamo portare gloria a Dio anche se rimaniamo senza niente perché Dio ancora continua in controllo non è il diavolo che è in controllo non è neanche il mondo in controllo solo Dio è in controllo Satana non ha Satana non ha un regno come quello che ha Dio Dio ha a Satana sottomesso ce l'ha come quando uno porta un cane in guinzaglia gli angeli e Satana sono venuti davanti a Dio a dare un riporto e Dio incominciò a essere orgoglioso su Job e Satana ha detto no, ma lui non è che ti ama lui ti serve ed è così come dici tu solo perché Lui ha tante benedizioni e Dio gli ha detto tu non puoi ammazzarlo ma vedrai cosa c'è in Lui tu vedrai come Lui reagirà l'ho dato se è il Signore e in Luca capitolo 1 versetto 19 l'angelo Gabriele sta parlando a Zaccaria io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per parlarti e annunciarti queste buone novelle la scrittura anche dice che i nostri angeli sempre stanno guardando la faccia del nostro padre dei devono rendere conto allora quando noi stiamo andando in certe situazioni ci troviamo in mezzo a certe situazioni gli angeli guardano la reazione di Dio perché Dio ci ama così tanto che gli angeli dicono parla una parola e lo farò allora in queste circostanze quando Giobbe non sta capendo nulla di ciò che sta accadendo nella sua vita l'unica cosa dove lui si può afferrare è il suo amore per Dio la sua integrità noi abbiamo bisogno di dare gloria a Dio e di non permettere che le circostanze della vita ci possano colpire Romani 8.28 dice tutte le cose operano per il bene tutte le cose tutte le cose operano per il bene le cose buone le cose non buone per coloro che amano Dio amare Dio d'accordo al suo proposito nel versetto 29 dice predestinati ad essere conforme all'immagine del suo figlio tutte le cose tutte le cose che noi andiamo incontro che noi passiamo è per poter arrivare ad essere come Lui e poter essere come Lui noi possiamo mostrare al mondo quanto buono è Dio e possiamo dare così una opportunità al mondo di conoscere a Gesù l'ho dato se Signore lo diamo ancora una volta al Signore lo diamo ancora una volta al Signore lo dà al Signore vediamo un'altra scena adesso vedremo come ha reagito Giuseppe nel Genesi 27 37 versetto 3 Giuseppe era l'amore di suo padre e lui gli ha dato una veste piena di tanti colori suo padre lo amava di più che il resto dei suoi fratelli molte volte Dio proverà il tuo spirito per farti vedere se quando tuo fratello sta sento benedetto e Satana ha usato il loro odio che avevano per poter andare contro Giuseppe perché Satana ha bisogno dei suoi lavoratori dei suoi agenti per poter distruggere il piano Dio ma Giuseppe ha avuto un sogno da Dio Giuseppe sapeva che suo padre lo amava tu hai bisogno di sapere che tuo padre ti ama tuo padre ti ama ti ama con un amore eterno se tu sai che tuo padre ti ama tu puoi andare e attraversare attraversare un mucchio di situazioni Dio aveva un piano ma questa amarezza questo odio se tu ritieni odio o amarezza nel tuo cuore tu non sai di cosa tu puoi essere capace Caino quando Dio confrontò a Caino e le ha detto ma perché il tuo volto è arrabbiato perché sei arrabbiato perché il tuo volto è non so cosa usa in italiano la Bibbia quando parla di Caino che il vesto è giù così non so come si usa in italiano se se fai il bene tu sai cosa fare tu avresti potuto essere accettato non ti avrei io accettato se tu non fai il bene il peccato è alla porta il nostro odio dà un accesso un permesso una porta aperta al diavolo per poter distruggere dentro la chiesa io voglio condividere con te abbiamo appena ricevuto una chiamata prima di partire che questa donna sta morendo di cancro ci hanno chiamato per andare all'ospedale pregare e ha detto io ho bisogno di ricevere lo spirito santo prima che muoio io mi sono allontanata e per 28 anni io non parlo in lingue io normalmente schernavo schernivo quando parlavano in lingue magari adesso Dio mi sta punendo e noi siamo andati a dire a questa donna gli abbiamo detto tu non potrai essere perdonata se tu non perdoni e lei ha detto tu non capisci cosa io ho passato c'era questa donna e non questa che stava morendo la donna raccontava che una donna ha preso questa donna che mi ha offeso ha preso a mio nipote l'ha involto convolto avvolto l'ha avvolto e per questa causa mio nipote è mentalmente ritardato è un ritardato mentale e io le ho detto se tu non perdoni tu non potrai essere perdonato perdonata e lei ha detto beh magari tu lei può mandarmi delle sorelle che possano pregare per me e le ho detto tu non hai tempo dobbiamo farlo ora allora io le ho chiesto qual è questo qual è il nome di questa donna lei mi ha detto il suo nome io ho preso la sua mano e incominciai a invocare il nome di quella donna dell'altra donna e ho incominciato a dire perdonala e la rilasciamo la lasciamo libera e tu potevi vedere la pace che veniva nel volto di questa donna quando lei ha rilasciato ha liberato la sua rabbia il odio e l'ho detto apri la tua bocca e inizia a lodare Dio appena lei ha aperto la sua bocca iniziò a parlare in lingue e lacrime incominciavano a scorrere nel suo volto e il marito che si trovava in quella stanza incominciò a danzare e a correre e incominciò a urlar a gridare e danzare come che il signore il re dei re è entrato in quella stanza se noi riceviamo da Dio non importa come possiamo noi stiamo attraversando delle cose mantieni il tuo cuore giusto non odiare nessuno ama a tutti grazie Gesù l'oda il Signore i fratelli di Giuseppe odiavano e si è trasformato in un possibile omicidio come ciò che ha fatto Caino ad Abele però il Signore li ha protetti dal proposito che loro avevano per Giuseppe e ha permesso che lo tirassero in quella fossa e mentre Ruben pensava di andare e riscattare a Giuseppe da quella fossa c'era ancora un qualcuno che voleva continuare il piano di ammazzarlo ma poi Giuda ha arrivato con un piano magari diverso per fare qualche soldo e lo venduto come uno schiavo lui è stato portato ad Egitto e l'hanno messo in vendita all'asta l'hanno denudato umiliato mentre lui guardava ogni cosa nel suo corpo non pensate che un po' di rabbia di odio voleva provare ad entrare nel suo cuore è stato comprato da Potifar Potifar era un ufficiale del Faraone non era che qualunque l'ha comprato capite se il diavolo sta provando di distruggere un sogno Dio è più in controllo lui ha bisogno di un qualcuno che mantenga lo spirito giusto allora vediamo che non molto tempo dopo Giuseppe è stato promosso il diavolo ha detto beh ho bisogno di un altro agente per andare a distruggere Giuseppe se io posso distruggere Giuseppe posso distruggere il sogno se io posso distruggere questa famiglia posso distruggere il sogno se io posso distruggere questa famiglia distruggere il loro sogno se io posso distruggere questa famiglia posso distruggere il loro sogno se ti posso distruggere a te posso distruggere se ti posso distruggere a te il tuo sogno il sogno deve andare avanti perché il sogno di Dio deve continuare avanti lui ha sognato ogni regno ogni nazione ogni lingua che sogni e lo vediamo in Apocalisse prima che ci fosse la chiesa con i gentili come la vediamo oggi c'era quel sogno noi abbiamo bisogno che Dio finisca e addempia il suo sogno non permettere che l'odio e l'amarezza controllino la tua vita io mi sono girato verso questa donna all'ospedale prima che lei arrivasse al momento del ravvedimento di perdonare a questa donna e le ho chiesto pensi che Dio era in controllo quando quello è successo al tuo nipote lei quando le ho detto questo ha messo il suo volto giù e ha detto non ho risposta per te io non capisco questo e le ho detto per favore rispondi questa domanda era Dio in controllo e lei mi disse perché il Signore può permettere che questo succeda e io le ho detto ma tu pensi che Dio è solo in controllo quando le cose buone succedono o sempre Dio è sempre in controllo alleluia l'oda al Signore quando lei finalmente lo ha ammesso che Dio era sempre in controllo allora è stato lì dove lei ha potuto perdonare grazie Gesù Giuseppe ha capito che non importa cosa avviene nel mio cammino Dio è in controllo tu sei l'unica persona che puoi fermarlo con il tuo spirito e la tua attitudine allora Satana poi ha pensato devo ancora continuare a fermare questo e vediamo che poi la moglie di Potifar viene se vicina a Giuseppe per provare di sedurlo Giuseppe poteva essere stato molto amaro Dio non l'è interessato prima perché dovrebbe interessarsi in me ora ma lui poteva anche farlo nessuno c'era attorno nessuno avrebbe saputo ma Giuseppe ha detto io non posso peccare davanti a Dio come on nel nome di Gesù poi vediamo che la moglie di Potifar dice bugie concernente a Giuseppe poi Giuseppe è stato gettato in prigione non era qualunque prigione era la prigione di Faraone poi una volta in più è stato promosso e Giuseppe continuava a mantenere una buona attitudine sicuramente quando venivano le guardie e vedevano quella prigione vedevano che era tutto tutto in ordine tutti nella prigione si lamentano borbottano sono tristi invece Giuseppe aveva un'attitudine diversa perché non mi pulisci il mio ufficio poi la prossima cosa che vediamo è che lui è diciamo avanti il controllo di tutta la prigione sta giocando dice lui è stato il primo prigioniero no come il jefe come si dice jefe il capo il capo il capo il capo no parlo come un buon capo poi vediamo due ufficiali di Faraone sono gettati anche in prigione e la stessa notte tutti e due hanno avuto sogni e loro si vedevano tristi io non penso che nessuno di nessuna persona può essere felice nella prigione ma Giuseppe doveva cambiare l'atmosfera e loro le hanno detto le hanno raccontato a lui i loro sogni e lui glorificando Dio ha detto è Dio che darà l'interpretazione Giuseppe come è che puoi glorificare Dio in una situazione come questa come puoi dare onore a lui quando tu stai passando ciò che tu stai passando lui allora interpreta i sogni i sogni si avverano esattamente come lui lo aveva detto e non molto tempo dopo uno è stato liberato l'altro invece è stato ammazzato impiccato non so se è impiccato ammazzato e quello che è stato liberato gli ha detto io non mi dimenticherò di te quando usciro da qui invece l'ha dimenticato molte volte noi ci sentiamo che siamo stati dimenticati a volte ci sentiamo che nessuno ne interessa che Dio si è dimenticato di noi che Dio non capisce di cosa stiamo andando attraversando nella nostra vita ma Dio ha un modo di far ricordare le persone le cose e in questo caso l'altro non l'ha ricordato allora il farone ha un sogno nessuno poteva interpretare questo sogno allora è stato lì dove il coppiere si è ricordato si è ricordato di Giuseppe lui interpreterà il tuo sogno e allora il farone le ha raccontato il suo sogno a Giuseppe allora Giuseppe le ha raccontato che questo sogno significava che ci sarebbe stato un tempo di fame di carestia ma prima di questa carestia ci sarebbe stato sette anni di molto molta benedizione e prosperità lo diamo ancora una volta al Signore ti amo Signore ti amo Signore lo dà il Signore lo dà il Signore lo dà il Signore allora vediamo che poi lui viene come secondo incomandante assieme al faraone allora l'idea che lui dà al faraone è che in questi sette anni di tanta tanta prosperità di raccogliere questi sette anni tutto ciò che si poteva e metterlo come averlo come riserva e nove anni dopo e vediamo che Giuseppe mette a disposizione tutto il mangiare agli ufficiali a tutti ed è lì quando vengono i suoi fratelli cosa pensi quando ha visto i suoi fratelli cosa pensi che lui ha pensato quando ha visto i suoi fratelli loro non l'hanno riconosciuto a lui pensate che lui aveva odio nel suo cuore però lui vedeva che loro stavano venendo sono passati già vent'anni sono invecchiati incominciò a parlare attraverso un interprete e lui sta capendo tutto ciò che loro stanno dicendo e lui ha cominciato a parlare loro un po' brusco voi siete spie lui stava provando di vedere se veramente i suoi fratelli avevano cambiato molte volte il Signore permette che passiamo delle situazioni per vedere se veramente noi abbiamo cambiato per vedere se veramente noi perdoniamo allora lui ha detto ai suoi fratelli guardate voi potete andare ma io rimango con Simone e lo metterò in prigione mentre loro andavano da suo padre e così proverete questa storia che mi state raccontando e se voi avete un fratello ancora un po' più giovane io voglio conoscerlo voglio vederlo e Beniamino era il suo giovane certamente il suo cuore annellava a vedere il suo fratello grazie Gesù e Giacobbe dice no no io non perderò a un altro mio fratello allora finalmente il mangiare finisce loro ritornano Ruben gli ha detto a Giacobbe prima che lui va via ti do la mia vita per la sua vita in cambio alla sua vita adesso vediamo che la sua attitudine era cambiata loro vanno davanti a Giuseppe e Giuseppe li invita a un banchetto e allora Giuseppe siede i suoi fratelli nell'ordine di nascita e loro si guardavano uno all'altro come che cosa sta succedendo qui questo è un po' strano ma ha messo cinque volte in più a Beniamino cinque volte in più per vedere come loro reagivano a vedere a Beniamino con cinque volte in più cose che loro perché vedete quando Giuseppe è stato benedetto loro si sono ingelositi di questo adesso lui voleva vedere se Beniamino sendo benedetto cinque volte di più di loro come loro avrebbero reagito stiamo parlando dietro le scenarie tu ti rendi conto che Dio sta facendo un lavoro meraviglioso che Dio è in controllo non importa ciò che tu stai attravesando è Dio che regna grazie Gesù ringraziamo il Signore allora la celebrazione il banquetto finisce riempie i suoi sacchetti di mais e dà l'ordine di mettere la sua coppa nel sacchetto di Beniamino e lasciatelo andare dopo un po' i soldati vengono e gli dice ma perché ti sei approfittato del mio master del mio capo prenderemo a colui che aveva il sacchetto la coppa dentro il sacchetto e lo prenderemo come il nostro schiavo ed era il sacchetto di Beniamino tutti i fratelli sono ritornati e gli hanno detto voi potete andare via Beniamino rimane allora Ruben incomincia a parlare e ha detto te l'ho detto quando Giuseppe piangeva Dio ci sta adesso chiedendo conto di quello allora lì Giuseppe vede il cambiamento che nel loro cuore non c'era più odio lui incomincia a piangere la sua abilità di perdonare ha salvato il mondo la tua abilità di perdonare salva il tuo mondo la cristianità non si basa soltanto nell'amore ma nella grande abilità che è il perdono vediamo che gli increduli i pagani si amano uno all'altro però avere l'abilità di perdonare e riconoscere che Dio è in controllo amiamo al Signore una volta in più come tu tratterai il ministero e uno con l'altro o porterà benedizioni o le toglierà se veramente noi amiamo e perdoniamo le benedizioni di Dio fluiranno amén lo dato sia il Signore Giuseppe ha detto tu hai pianificato malignità contro di me ma Dio aveva un proposito per il bene perché Dio è in controllo tu non sei in controllo Dio è in controllo il Salmo 105 versetto 16 dice che Dio ha inviato Giuseppe all'Egitto io penso che c'erano tante altre migliori maniere di aver inviato a Giuseppe all'Egitto che andare come uno schiavo lo dato sia il Signore cosa è successo a noi ieri voi non pensate che Dio è in controllo e che Dio ci può ancora benedire il triplo di ciò che abbiamo perso io ho sentito la devastazione che è successo in questa Chiesa e come Dio stava benedendo tanto e come da un momento all'altro si è visto come che si da un tratto si è perso tutto però è tempo di fermare di infoccarci a ciò che il Diavolo sta facendo è tempo di avere il nostro cuore giusto e di vedere ciò che Dio sta facendo lui è in controllo allora l'odiamo al Signore fratelli l'odiamo al Signore alleluia alleluia gloria a Dio gloria a Dio grazie al Signore grazie al Signore grazie al Signore grazie al Signore ogni una di queste situazioni può causare che il tuo pastore o te si è fissuto ogni una di queste situazioni può causare che il tuo pastore o tu diventi una persona amara ma Dio ha parlato attraverso una professia ieri alla casa dei fratelli Bracuto e io ho avuto una visione del nemico portando tutte queste distrazioni e lo Spirito Santo ha detto di dire di non guardare a tutte queste distrazioni a tutto ciò che il diavolo sta facendo ma guarda ciò che io sto facendo dice il Signore senza sapere noi cosa avremmo attraversato ore dopo il Signore già aveva dato la parola per poi noi essere provati a affrontare come avremmo affrontato questa situazione ore dopo per vedere come avremmo risposto a questa avversità per vedere se veramente noi saremmo stati enfocati a ciò che il diavolo stava facendo e diventare amari e arrabbiati o guardare Gesù avanti loda Signore non è finita ancora la gloria sta per venire il potere sta per arrivare l'onda l'ondata grande che verrà sarà più grande di quella che è andata noi avremo più potere all'inizio come on everybody praying if you got the holy ghost let the holy ghost out thank you jesus you know the story job's end tu sai la storia come è finita di job è stata ancora più meravigliosa più grande dell'inizio Dio può prendere tutto ciò che hai perso e darti ancora il triplo se tu continui a vivere per Dio tutto ciò che devi fare è avere il tuo cuore giusto se noi confessiamo i nostri peccati lui è fedele e giusto per perdonare parliamo un po' con il Signore del nostro cuore prepariamo il nostro cuore per ricevere la parte di Dio non importa cosa stai passando o cosa hai passato non importa cosa hai passato Dio è in controllo gloria hallelujah 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 after we lost Logan the devil whispered to me it's over I've got you I said you can't touch him now Logan is in his presence you'll never touch him now thank you Jesus thank you Jesus I asked God why do I keep living he said because I have people that need to be saved I have a purpose in other words he said to me according to Job 7 there's a there's appointment for everybody to die and then the judgment and he said a ministry a warfare Job said I'm an old man I just struggle living I'm young my my sons were young I'm old surely my job is done but as you can see Job's life was yet to begin he's seen his grandchildren to the fourth generation no matter what he lost God was able to give more than ever greater he had his integrity come on I'm talking to God one day and I said Jesus Logan was my future I said I just struggled because he was going to live on after I went then he spoke to me why can't I be your future I repented I'm sorry God you're my future you're my reason to live I dearly love this you people I dearly love your pastor and his wife and I'm going to come back to see a great great work if you need some from Jesus Jesus will give it to you today you need healing in your body if you if you've never spoken tongues you're welcome to come you've prepared your heart you got you got rid of the hate and the hurt you know he's in control you can trust him I welcome you to come I will pray for you thank you Jesus thank you Jesus anything is not everything is good I I love I love you I love I love Grazie a tutti.